Ora, molti di voi, sapendo di questo spettacolo, ci hanno chiesto ma cosa sono i freschi buffi? Sì, sì, tantissimi. Molte cose andranno meglio in futuro per gli uomini, secondo me. Nei locali saranno le donne a rimorchiarci sempre. Posso offrirti qualcosa? Sì. Che prendi? Sette peroni grandi. Altri, ancora più impavidi e ingenerosi verso la fortuna che gli ha dato la vita, mi hanno chiesto cosa sono le trasmigrazioni. Corriandoli bianchi, corriandoli rossi, corriandoli bianchi, corriandoli bianchi, corriandoli Nonostante noi siamo così chiari e così precisi con le persone, altri addirittura sono venuti da me e mi hanno chiesto, scusa, ma cos'è l'anima? Viva. 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 Grazie a tutti